Ciao, sono Stefano e oggi vi parlo di un notebook eccezionale, ovvero il ThinkPad più leggero di sempre, ThinkPad X1 Nano. L'aspetto più incredibile di questo prodotto sicuramente è il peso. Pensate che con i suoi 907 grammi pesa praticamente 200 grammi in meno rispetto a X1 Carbon, che fino ad oggi era il ThinkPad più leggero in commercio. Tutto questo senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni. All'interno di ThinkPad X1 Nano troviamo un pannello luminoso da 13 pollici con tecnologia Dolby Vision, quattro speaker con tecnologia Dolby Atmos e microfoni con supporto alla tecnologia Dolby Voice, che permettono di rendere più naturale il suono della mia voce quando viene trasmesso durante le audioconferenze e videoconferenze. La connettività di ultima generazione è garantita dal supporto alla tecnologia 5G e ThinkPad X1 Nano è il primo ThinkPad ad aver ottenuto la certificazione Intel Evo. Quando sono in movimento e porto il mio ThinkPad X1 Nano nel mio Zeno Professional Eco, che è realizzato con l'equivalente di 34 bottigliette di plastica riciclata, devo controllare se effettivamente il notebook è nella borsa perché è talmente leggero che rischio di dimenticarmelo. E sempre rimanendo in ambito green, tutta la gamma ThinkPad X1 Nano a listino include, oltre al servizio VIP di assistenza Premier Support, anche il servizio di compensazione della CO2, che permette di ricevere un certificato di compensazione appunto della CO2 generata dal prodotto in tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento, che le aziende possono utilizzare come credito di CO2. Vi ringrazio e vi invito a scoprire il leggerissimo ThinkPad X1 Nano.